Popolo del fantasy, Re Gioffri vi richiama a partecipare al Fantasy Day di San Giorgio a Cremano il 13 e 14 ottobre. Accorrete numerosi, io dovrò farvi giustiziare! Ehi, re delle mie ragnatele, non ti sembra di esagerare un po'? Ragazzi e ragazze, mi raccomando, ci penserà il vostro amichevole Spider-Man di quartiere a difendervi. Voi accorrete numerosi il 13 e 14 ottobre a San Giorgio a Cremano per il Fantasy Day 2018. Ciao! A presto! Ciao ciao ragazzi!